In questo breve video vediamo come utilizzare i codici QR in generale, non solamente il mio manuale. Qui abbiamo un esempio di pagina stampata in cui appunto c'è un codice QR. Basta avviare la fotocamera, nel mio caso c'è già integrato un lettore di codici QR nella fotocamera, altrimenti appunto si vada a installare un'app nei vari app store, ce ne sono tantissime, è una di quelle app che è diventata gratuita sostanzialmente. Appena io inquadro appunto questo codice, la fotocamera già lo riconosce in automatico, mi fa comparire questo link sovraimpressione, io non faccio altro che fare click, e qui mi si può aprire un sito, un video, una pagina, un download di un file, può succedere qualunque cosa a seconda di quello che appunto è stato associato al link. È un link a tutti gli effetti, quindi appunto si può aprire vari tipi di contenuti multimediali. In questo caso è associata l'apertura di un file che sta online, nella galleria online, 3D Warehouse, e questo è un esempio degli esercizi del libro ad esempio, in cui posso quindi inquadrare la pagina, vedere l'oggetto terminato, capire meglio come è fatto, che forme ha, come è composto, e anche un po' fare pratica con questa realtà aumentata che è molto interessante come metodo di visualizzazione e esplorazione dello spazio. Clicco il pulsante View in your space, e scansiono leggermente lo spazio che mi circonda. Anche questo bisogna vedere un po' da smartphone o smartphone, se è in grado di fare questa operazione, ma a questo punto io ho registrato anche lo schermo dello smartphone, in modo tale da riuscire proprio a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo. Io sto spostando l'oggetto di qua e di là, lo posso far scorrere nello spazio, e lo vedo in sovrimpressione, appunto come se ce l'avessi qui di fronte, posso zoomare, mi posso avvicinare, la posso vedere dalle varie angolazioni. Quindi, molto comodo, il telefono bene o male ce l'abbiamo nelle vicinanze, e credo che questo sia un modo per integrare allora dei contenuti testuali della carta stampata con qualche cosa di digitale, ma molto utile, facilmente fruibile, e che apre prospettive nuove di esplorazione dello spazio, in particolare questo della realtà aumentata. Però, come detto, appunto, attraverso questi codici QR, nel manuale posso andare ad aprire anche altro siti, video, ho cercato di mettere dentro un po' tutto quello che mi sembrava utile per l'apprendimento e approfondimento di SketchUp. Grazie a tutti.